L'agricoltura abruzzese è a rischio default, dicono i consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. GAL, pacchetto giovani misure investimenti ancora fermi al palo, continuano gli esponenti azzurri per i pasticci create all'interno della direzione delle politiche agricole della regione Abruzzo. Il PSR è in forte ritardo e quindi rischiano di essere bloccati di fatto 200 milioni di euro di investimenti nel settore primario. E poi c'è la confusione creata sulla misura investimenti e ristrutturazione, dove non sono stati concessi 15 giorni di proroga a causa di una falla nel sistema nazionale di emissione dei dati. Per questo ci sono diverse centinaia di imprese che rischiano di entrare in difficoltà. Oggi abbiamo una direzione, un dipartimento completamente fermo, peraltro dove c'è tanta professionalità che oggi si sente demoralizzata, frustrata perché non riesce a far capire all'assessore, quindi alla politica e soprattutto a chi dirige il dipartimento, che deve utilizzare quelle che sono le proprie risorse interne. E le pratiche non vanno avanti perché si seguono delle procedure che non sono in linea con i dettati europei, soprattutto perché non si vogliono seguire il rapporto che c'è sempre stato tra agricoltura, aziende agricole e la direzione. Si continua a gestire dall'alto, a far calare le decisioni e questi sono i risultati. Ci sono le misure infrastrutturali che sono sicuramente importanti perché per le aziende significa la sfida per il futuro. Ci sono tanti, decine e decine di milioni di euro, altri decine e decine di milioni di euro che vogliono mettere gli imprenditori agricoli. Non si riesce a sfruttare la pratica e non lo si riesce perché non si è dato corso a quel che era una richiesta legittima fatta in tempi non sospetti da tutti, dal mondo agricolo rappresentando dalle organizzazioni, ma anche dal mondo degli ordini professionali, agronomi, geometri, ingegneri che chiedevano una proroga perché c'era impossibilità di immettere queste pratiche all'interno del sistema Sian.